Sono Elena Fanchini, la vita mi ha insegnato a lottare per vincere. Come me, Canco Primo Aiuto porta avanti le battaglie di chi ha bisogno, sostenendo oltre agli ammalati oncologici gli alluvionati del Veneto. Se sei un imprenditore o un privato, puoi collaborare alla raccolta di materiale edile o arredamento in ottimo stato, per dare speranza a chi ha perso la casa, il lavoro, gli affetti. Il materiale si può portare nei nostri punti di ritiro e si può usufruire dei nostri mezzi di trasporto. Canco Primo Aiuto, uomini che aiutano altri uomini. Canco Primo Aiuto